ATTENZIONE, PLANGEOR BATE! Una meteora sta per schiandarsi sulla città! Mettetevi al riparo! Chissà perché brilla in questo modo. Cos'è successo? È molto probabile che la pietra spaziale abbia potenziato i cuccioli. Supercuccioli, siamo pronti alla superazione, signori! È ora di cavalcare le onde! E se c'è un problema, una difficoltà... Super Rubble come un rozzo! I cuccioli faranno di tutto per salvarlo. E con i loro superpoteri potrebbero... Anche... riuscirci! I miei tuliponi! Aiuto! Nessuno mai ci fermerà! Supercuccioli, siamo qua! Supercuccioli! Faux Patrol Mighty Pops! Il film dei supercuccioli ti aspetta dal 21 al 25 dicembre solo al cinema! Sì! 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 Sì!